L'attività che abbiamo svolto nell'utilizzo dei buoni pasto, cartacei e anche elettronici, è stato quello che nei punti vendita, nei ristoranti, nei supermercati, in tutti i luoghi dove venivano utilizzati i buoni pasto, ci fossero tanti post, uno per ogni società di emissione. Ecco, da qui siamo partiti, sono partito dall'idea di dire che devo portare tutto all'interno di un unico pinpad per rendere più facile il check out, per rendere più semplice la fruizione e l'utilizzo dei buoni pasto. Questo è stato possibile grazie al fatto che abbiamo trovato un partner adeguato che era Qsave, ci siamo scambiati delle idee, abbiamo elaborato il progetto e questo è stato anche possibile perché c'erano delle competenze, c'era la capacità organizzativa, c'era la determinazione ma soprattutto c'era una grande qualità, la curiosità di trovare nuove possibilità, la curiosità generale di scoprire nuovi mondi. Ecco l'uovo anche di Colombo. Abbiamo avuto buoni risultati, ottimi risultati perché questo ci ha consentito innanzitutto di portare dei vantaggi ai nostri punti vendita, semplificando tutti i processi e di fatto facendo risparmiare i nostri punti vendita in termini organizzativi ed amministrativi. Questa procedura ormai è presente in circa 200 punti vendita, sono molto soddisfatti i nostri associati, sono molto soddisfatti i nostri associati di questa procedura perché riescono ad avere anche delle risposte direttamente sul sito sia dal punto di vista amministrativo e anche organizzativo. Quindi diciamo che è stato raggiunto un ottimo obiettivo con degli interfacciamenti software e con l'idea che tutto dovesse passare sull'unico posto.